Telefoni e tecnologia. È questo il binomio che ha fatto segnare un vero e proprio boom nei consumi degli italiani negli ultimi 30 anni. I primi con un incremento della spesa pro capite in termini reali di oltre il 6.500%, mentre per PC e prodotti audiovisivi e multimediali la crescita è stata del 962%. All'interno del comparto del tempo libero sono in forte crescita anche i servizi recreativi e culturali che hanno registrato più 90%. Questi in sintesi i principali risultati che emergono da un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2024. In calo alimentari e bevande, abbigliamento, mobili ed elettrodomestici e il consumo di elettricità e gas, grazie anche alla riduzione degli sprechi e alle politiche di risparmio energetico adottate negli ultimi anni. Nel 2024 la spesa pro capite per consumi delle famiglie, sebbene abbia recuperato i livelli pre-pandemici, è ancora sotto i livelli di picco del 2007. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Quest'anno i consumi legati al tempo libero e quelli della filiera turistica daranno un forte contributo alla crescita, ma la nostra economia è ancora in una fase di incertezza. Molto dipenderà dalla tenuta dell'occupazione, dalla riduzione dell'inflazione e dagli investimenti del PNRR e soprattutto dalla piena attuazione della riforma fiscale che può e deve sostenere redditi e consumi delle famiglie.